Infortuni, assenze di lavoro e perfino una maxi-coda autostradale. Il BC Ospedaletti relativamente alla trasferta di Riva Rolo, valida come diciassettesima giornata del campionato di Serie D, ha molto da recriminare e vede ormai il Sarzana irraggiungibile in testa alla classifica. I ragazzi di Coach Lupi, giunti nel Genovese con grave ritardo e costretti ad un riscaldamento lampo, hanno subito nel primo parziale un 21-8 che si è rivelato zavorra inestinguibile, tentandosi la rimonta nel secondo e nel terzo, ma senza la lucidità necessaria per rosicchiare nel finale i 5 punti di distacco di un 83-78 che lascia amareggiati. Tenuti a galla da Bedini con 24 punti e da Sartore con 15, gli Orange stanno vivendo un momento di scarsa brillantezza fisica e mentale, riuscendo comunque a mantenere un fin qui meritatissimo secondo posto. È terminata invece la regular season del campionato di Serie B femminile, che ha visto il Bice Ospedaletti piazzarsi al quarto posto dopo la vittoria per 69-47 sul campo del Savonera, costola della pallacanestro Torino che milita in A3. La sacra autrice di 19 punti e Roberta Sarti, MVP con 24, saranno le trascinatrici anche nella seconda fase, che prenderà il via nel weekend del 23-24 febbraio e in cui le ragazze di Coach Carbonetto sono annunciate come sicure protagoniste. Nella quinta giornata di ritorno del campionato di promozione maschile, infine, prosegue la striscia positiva del VVC Sanremo, che con la vittoria ottenuta ai danni dell'amatori Savona, 54-39 il finale di Villa Citera, salgono al terzo posto in coabitazione col Cairo. Nonostante le assenze per infortunio di Reggio, di Rosti, di Filippo e Nicola Pistola, la squadra allenata da Amato è riuscita a prendere decisamente il comando delle operazioni nel terzo quarto, nel quale è stato operato il break decisivo, un 16-4 con tacconi e franchi grandi protagonisti, che ha permesso un finale di serena gestione.